L'offerta di servizi sanitari di eccellenza si arricchisce di una nuova struttura, tecnologie digitali avanzate e apparecchiature sofisticate nel nuovissimo centro di diagnostica per immagini, ultima creatura del gruppo Istituto Santa Chiara, San Vito dei Normanni. Destinata all'utenza del Brindisino, si affianca quella gemella operativa dal 2010 a Castriniano dei Greci al presidio di riabilitazione funzionale di Merina e di Lizzanello. Centrale nella mission del centro, il parametro qualità nell'erogazione di prestazioni salvavita per patologie importanti. Due esempi su tutti, la risonanza magnetica nucleare ad alto campo e l'attack multislice. Ambe due i macchinari sono due macchinari con i quali si può fare praticamente qualsiasi tipologia di esame, soprattutto per quanto riguarda le patologie oncologiche. Ma si potranno eseguire qui nel centro di San Vito anche ecografia internistica e radiologia convenzionale generale e speciale, una struttura di prossimità voluta dai privati, 12 in organico tra medici e specialisti, infermieri e personale amministrativo, che avrà un indubbio riflesso in termini di efficienza del servizio, consentendo un abbattimento di circa tre mesi delle liste d'attesa. Parliamo di prestazioni di rilevanza soprattutto per quello che riguarda le grandi macchine, quindi la risonanza magnetica e l'attack, perché hanno proprio la possibilità di intervenire in tempi più celeri laddove la celerità può essere chiaramente fondamentale.